Mi faccia con me, Presidente. Preghiamo. Rinnova Signore, il volto della terra. Canti. Manda il tuo spirito per la riconciliazione e la salvezza del mondo. 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 La venuta dello spirito si rinnova all'inizio della vita della Chiesa. Lo Spirito Santo, per mezzo del suo figlio Gesù, rinnova il coraggio per crescere e maturare. Soprattutto questi nostri fratelli e sorelle che riceveranno per gli Apostoli il dono del Santo Spirito. Riconciliazione e la salvezza del mondo. Confesso a dirlo con lei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A parto erano loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono. A quel tumore la bolla si razzuò e rimase truppata e fuori di sé per la meraviglia, dicevano, tutti i costoro che parlano non sono forse... Siamo pari, meni e amici e dobbiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi ombre di Dio. Parola.